Il bilancio positivo, un anno che è trascorso in maniera molto impegnativa in quanto sono riuscito a poter svolgere la funzione che è propria del comando militare esercito, ossia questa continua sinergia, contatto con la popolazione locale. L'esercito è presente in Calabria, è presente con reparti operativi, è presente con una componente che vede appunto questo collegamento sinergico con le varie autorità. Una terra che ha dimostrato in quest'anno una grande voglia di partecipare e di stringersi intorno appunto alla forza armata e a quelle che sono le autorità e le istituzioni. Quindi sicuramente un periodo molto molto positivo. È lo stato d'animo di continuare sulla strada dei miei predecessori che hanno fatto sì che la grande integrazione tra l'istituzione esercito e la popolazione si rinsaldi e si fortifichi sempre. Io come dico sempre voglio dare un'immagine di questa sinergia. Quando chiunque del popolo, che sia un bambino, che sia un professionista, che sia un papà, una mamma, una persona anziana, osserva e guarda un soldato in armi, una donna in armi, in divisa, quando sorge su quel volto un sorriso, allora vuol dire che il nostro obiettivo è stato raggiunto. E con uno stato d'animo di molto propositivo, cosciente del proprio obiettivo, dello scopo per cui noi esistiamo, e di una forte responsabilità che non deve mancare mai tra coloro che sia che comandino e che siano i nostri collaboratori nelle nostre fila, nelle file della nostra istituzione esercito. La linea fondamentale è quella di sempre di creare sinergia tra la popolazione e l'istituzione esercito. Senza questo collante la popolazione non capirebbe cosa sta facendo l'istituzione e viceversa. L'istituzione non si sentirebbe integrata e quindi lo scopo diretto è la mia missione. Quello che sento di dire è di creare questa empatia assoluta attraverso la quale si possa raggiungere degli obiettivi comuni sia tra le istituzioni civili, per la popolazione e per noi.